Intermedia alleanze, parlando nello specifico del Veneto, aperti anche al nuovo centrodestra? Al momento è il vicepresidente di Zaia e del nuovo centrodestra. Devo ribadire per la giustesima volta che la coerenza viene prima di tutto. Alfano ha scelto di governare Gorrenzi, Alfano è il ministro dell'immigrazione clandestina, Alfano fa parte di un governo che sta tagliando 300 milioni di euro al Veneto, Alfano fa parte di un governo che sta riempiendo di immigrati il Veneto, è chiaro che non potrà mai essere alleato della Lega in Veneto. Né oggi né domani né dopodomani. Nel resto d'Italia questa mattina Totti dice che l'accordo con il nuovo centrodestra e con l'area popolare ormai è stretto. Non è che con la Liguria, con la Toscana e con gli altri si stia comportando meglio. Quindi chi sceglie di governare con Renzi evidentemente difficilmente può governare con la Lega.